Sì, con Gabbiadini, cercava una svolta il Bologna in questo campionato, è arrivata sia la svolta della squadra ma anche la svolta tua a livello personale perché è arrivato il primo gol con questa maglia, è una giornata molto importante per voi, ce la descrivi? No, il mio gol non era importante, era importante per la squadra perché venivamo dal momento difficile e questa vittoria ci dà la carica per ripartire e adesso pensiamo domenica per domenica e niente, dobbiamo giocare come sappiamo, abbiamo i valori per vincere e rimetteremo un campo ogni domenica come oggi. Abbiamo visto anche l'abbraccio di tutti i compagni insieme all'allenatore a fine partita, sono gesti questi che possono aiutare anche a superare momenti difficili come quello che avete visto in questo misto di campionato? No, su questo non c'è dubbio perché il gruppo è ben unito nonostante tutte le sconfitte che sono arrivate, però il gruppo è unito, con i compagni mi trovo bene, ci troviamo bene, quindi possiamo solo far bene e bisogna avere magari anche un po' più di fortuna e adesso come dicevo prima, giochiamo domenica per domenica e poi si vedrà. Ultima, ti ringrazio la borsa del ghiaccio sul ginocchio, come stai? No, avevo preso due botte a fine primo tempo e a inizio secondo tempo mi faceva male, ma niente di che, solo precauzioni.